Il governo britannico cambia le norme sul fracking. Il ministro delle comunità avrà il potere di attribuire direttamente i permessi per l'estrazione del gas di scisto. La decisione annunciata in piano agosto sembra essere stata presa appositamente per aggirare i veti degli enti locali. I gruppi anti-fracking e gli ambientalisti hanno già detto che non sono soddisfatti da questa decisione e sono molto preoccupati che il governo voglia bypassare le scelte delle autorità locali. A fine giugno autorità locali del nord-ovest dell'Inghilterra hanno respinto due progetti di fracking perché giudicati troppo rumorosi e dannosi per l'ambiente. A preoccupare soprattutto il timore che le sostanze chimiche usate per l'estrazione del gas contaminino le falde acquifere con possibili conseguenze per la salute degli abitanti e per il valore delle proprietà della zona.